buonasera buonasera a tutti benvenuti a questa nostra diretta incentrata sui messaggi che riceviamo da chi vive nel mondo dell'oltre vi chiedo come sempre un feedback se riusciamo a vedere i messaggi che quello che i commenti quant'altro a questa diretta per chi adesso in questo momento non riesco a vederli e non solo perché vediamo un po come si fa no ecco qua ecco qua ecco qua comincio a vedervi bene arrivati come state tutto bene bene ok ok allora intanto che aspettiamo che uno di voi si si collega iniziamo con la nostra diretta eccoci eccoci vedere un attimino com'è come come funziona soprattutto se mi sentite bene se va tutto bene perfetto grazie grazie mille del vostro feedback allora in questa nostra diretta funziona così noi parliamo con le persone che sono di là nell'oltre e vi ricordo per chi è la prima volta che mi segue che in queste dirette succede così nel senso che io sono una viaggiatrice astrale per cui vado con il mio corpo di luce vado di là nell'oltre e sto lì e aspetto quindi sono loro che mi vengono incontro e poi mi danno il messaggio e come fanno a sapere a chi dare il messaggio molto semplicemente perché voi qui state scrivendo tutti quanti quindi io non faccio altro molto molto semplicemente che guardare il vostro nome tipo ad esempio ha detto marinella cimarelli ben ritrovata e e quindi mi viene il messaggio così ecco quindi non sono io che posso pilotare tra virgolette questa cosa qua in alcun modo anzi ciao graziella ciao cara per quanto riguarda invece un una particolarità allora molti di voi ciao mirella molti di voi mi hanno detto io non ricevo mai messaggi oppure a me non mi guardi ecco purtroppo non non è così ecco non è proprio così allora questo a proposito volevo rispondere prima di iniziare grazie grazie mille prima di iniziare a o aspetta che metto un po più centrata sembra che ci abbia un fiore in testa però va bene c'è problema ecco volevo spiegarvi un attimino come un po meglio come come accade il tutto no e in questa maniera magari riusciamo anche un po a comprenderci meglio no e avviene così di là dovete sapere che loro stanno tutti molto molto bene quindi domande del tipo ma stanno bene sono felici loro sono felicissimi faccio un esempio molto pratico no faccio un esempio avete mai vissuto sicuramente è stato così un grande momento di felicità nella vostra vita che può essere anche la nascita di un bambino no che è quello più bello in assoluto ecco voi immaginate di centuplicare a questo momento di grande felicità centuplicarlo all'ennesima potenza e avrete solamente un lembo di quello che loro provano di là quindi immaginate no questo grandissimo questa esplosione d'amore così forte che noi nemmeno in centomila vite riusciamo a comprenderlo chi va di là come me come viaggiatori estrali come le medium infatti vedono queste sentono questo grandissimo amore quando noi diciamo c'è un grandissimo amore è proprio così parlerò anche dei bimbi mai nati è tra due secondi e quindi se quando loro arrivano loro provengono da un amore assurdo strampalato quindi vengono con questo grande amore e vengono per darvi un messaggio o per comunicare o semplicemente come comunicano ma certo che loro sono portatori solo di messaggi bellissimi vi fanno sentire profumi vi fanno trovare degli oggetti qualsiasi cosa no però dall'altra parte voi avete il dolore che è un dolore che può essere un dolore fresco la dolore perché la mancanza della fisicità anche no ecco quindi loro non riescono a parlare si sbilanciano e come se io parlassi faccio un esempio ancora più pratico c'è amore mio e dall'altra parte sento cioè io mi blocco subito no per quello che è così difficile comunicare è quello che mi hanno detto no è proprio difficile quindi per riuscire ad avere un messaggio io lo dico in tutte le mie dirette sforzatevi per un secondo e di tenere dentro di voi quell'amore meraviglioso che avete sentito che sentite tuttora per chi vive di là più voi provate amore più loro riescono a comunicare per le mamme è un po più difficile quindi è normale che per le mamme è un po più difficile vi parlo un secondo dei bimbi mai nati perché maria pia molto la me l'ha chiesto e allora i bimbi mai nati sono dei bimbi che hanno avuto la luce nel nostro grembo ma che non hanno visto la vita la luce della vita no quindi che cosa fanno questi bimbi meravigliosi sono felicissimi perché hanno avuto questa luce bellissima della vita e allora quest'anno il più delle volte si fanno sentire ogni tanto dalla mamma e sono posizionati l'ho visto l'ho riuscita di tour una volta a fotografarlo sono posizionati più o meno a questa altezza e fanno degli scherzi no perché le piace vedere la loro mamma ridere no quindi non so li fanno idolozia alle orecchie oppure le fanno perdere la concentrazione oppure le fanno girare un po la testa oppure si sente questo rumore di sottofondo insomma sono loro ok quindi sappiate che tutti di là tutti indistintamente sono felici oltremodo quanto voi non potete neanche immaginare e sono talmente felici che fanno fatica a comunicare con noi perché noi abbiamo dentro di noi quando pensiamo a loro abbiamo dolore e sofferenza ok adesso iniziamo ci sono già tante persone di là e anche di qua perché no che aspettano ci mettiamo in concentrazione mi raccomando tanto amore eccola anna maria bernardini hanno e c'è il messaggio per te è una donna anziana è una donna anna maria bernardini che ha lavorato molto anche fisicamente con le mani ha lavorato molto con le mani perché mi fa vedere queste mani nodose diciamo no quindi non sono delle mani leggere ecco no assolutamente no e mi fa un segno che è inequivocabile mi fa così ok tutto per te anna maria bernardini quindi è una persona che ti vuole molto molto bene ciao dada vale anche per l'interruzione di gravidanza volontaria sì sì tatiana zucconi i bambini mai nati non non importa perché non il perché non sono mai nati importa che loro hanno avuto la luce nel grembo e che tutti loro sono vicini tatiana nel tuo caso è una femminuccia quindi io l'unica cosa che chiedo a chi ha i bimbi mai nati è di dargli il nome perché loro comunque sono sempre vicino a noi e aspettano proprio questo aspettano il loro nome aspettano di essere chiamati di essere di giocare con loro ma perché no insomma questa è una cosa veramente molto bella ok eh sì ok no aspetta Maria Piamoto spero di aver dato una bella spiegazione alla ai bimbi mai nati ok per tutti gli altri tanto c'è comunque sì loro Marina allora è bravissima sì loro ti fanno anche gli scherzi nell'orecchio ti fanno prudere l'orecchio ma è una cosa che non è possibile cioè se voi ci ragionate non è veramente incredibile questa cosa qua vabbè mi fa morire da ridere ai bambini mai nati e poi sono velocissimi sono velocissimi quindi vi capitano tutti davanti agli occhi che è una meraviglia quindi ogni tanto fate fate questo lavoro qua proprio perché loro cercano in ogni modo di essere vicino alla loro mamma raramente sono invece dal papà in base a quale criterio il defunto ha la priorità per comunicare? nessun criterio, non c'è nessun tipo di legge umana nell'oltre c'è solo la legge divina non c'è nessun tipo di criterio, non esiste proprio la parola non la conoscono loro arrivano perché nell'oltre sanno tante cose che noi non sappiamo no? è come quando i nostri persone anziane ci danno dei consigli perché ce li danno? perché sanno perché hanno avuto l'esperienza quindi loro quando vengono a darvi dei messaggi ve li danno in quel momento che sanno loro che riuscite a riceverlo può essere che ve lo danno con Nicoletta o che ve lo danno con un'altra persona però loro sanno quando è il momento e se per caso voi non lo ricevete vuol dire anche che non è il momento giusto e poi mi ripetevo dall'inizio loro di là vivono in un amore immenso quindi quando vengono da voi sono carichi di un amore che noi non ce lo immaginiamo nemmeno tanto vasto che è quando incontrano le nostre vibrazioni perché loro parlano con vibrazioni vibrano come i suoni quindi se io suono un'arpa tu fai se sei pronta a sentire una melodia fai oh che bella ma se io vengo da te con una nota tagliata una nota stonata non potrò mai riuscire a carpire la bellezza del suono dell'arpa e quindi loro non riescono a comunicare bisognerebbe cercare di essere più morbidi cercare di mettersi in sintonia con un attimo di amore allora ce la fanno assolutamente sì allora Clara Bugli ho visto una cosa anche incredibile suddita Clara che sei invasa nell'oltre da animaletti pelosi tutti noi abbiamo persone ma tu veramente hai anche tantissimi animaletti ok quindi posso solo immaginare il disagio che tu ogni tanto puoi avere alle gambe che magari ti senti i pizzichini alle gambe o ti senti i crampi alle gambe insomma mi fa morire questa cosa qua però in effetti sì è proprio così ed è il mio messaggio Clara ok ora guardiamo i messaggi Daniela Farroni oh oh cosa ho fatto scusate avete visto un pezzo del mio lavoro sì Prudello Orecchio sì Daniela Farroni da te invece viene un uomo è un uomo alto ben distinto un uomo che sento il profumo di un profumo legnoso come di tabacco e di legno no un legno pregiato ok e ti guarda è un uomo di è sempre stato di poche parole e il suo messaggio è il silenzio ma nel suo silenzio ti esprime tutto questo grande affetto che ha perché lo si percepisce dagli occhi maura maura picca maura picca sento dei profumi dell'india oh bello questo messaggio è diverso dagli altri giusto perché di lato tu hai proprio le persone quelle strane no? come si dice sono persone che sono molto diverse sono fuori dal coro no? egregi tutta la tua famiglia maura picca è così e infatti quando vengono da me e mi fanno sentire questi profumi dell'india però questi profumi sono dell'india perché ti stanno dicendo che questa persona che tu hai nell'oltre che lui adesso è andato in india che sta facendo questi viaggi dappertutto perché le piaceva moltissimo moltissimo viaggiare e quindi ci sono questi questi viaggi che fa e può farli dappertutto ecco quindi è una cosa veramente meravigliosa penso che tu possa non solo essere felice per questa persona qua allora Maria Grazia Ficarra sì 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 è già partito il messaggio però tanto nel caso Maria Grazia sì eccola qua allora finalmente grazie a Dio ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta Maria Grazia nel senso che è proprio un sentire fortissimo no? che mi dà e questo sentire fortissimo è proprio questo che ti sto dicendo perché era sempre così tanto lui era così tanto entusiasta della vita che quando gli succedeva qualcosa di bello proprio reagiva così ce l'ho fatta ce l'ho fatta cioè era proprio molto allegro da questo punto di vista tanto ad esempio quanto si intristiva e si incubiva quando queste cose invece non non poteva non succedevano ecco questo nella vita di là è la stessa cosa quindi è felicissimo perché tu finalmente hai capito come funziona cioè hai capito che per riuscire a comunicare con lui dovevi far entrare dentro di te il ricordo perenne e indistruttibile che è permeato tutto nella tua pelle nelle tue cellule del grande amore che avevi per lui per tuo figlio quindi adesso lui riesce a comunicare e riesce a comunicare e ha detto che ha deciso di farti vedere delle cose e adesso io te le descrivo che così poi tu durante appunto questa questa bellissima Pasqua avrai queste manifestazioni perché lui ha piacere di farti sapere che sta bene lo sai già però insomma se lo vedi lui dice che è meglio perché tu sei anche una persona molto materiale e quindi hai bisogno di toccare un po' con mano allora lui ti farà vedere questa cosa qua tu vedrai per terra delle palline che possono essere una volta possono essere delle biglie una volta forse è proprio una palla da giocare però le vedrai rotolare ok quindi potrai vedere magari o in un film o addirittura in casa che è più difficile da questo quindi te le farà trovare in casa occhio non ci si vola alcisci sopra perché non c'è una pallina però è una cosa molto molto bella e quindi tu così saprai che lui comunica con te in maniera diversa però si comunica così sono molto molto contenta per voi due ce l'hai fatta è magnifica questa cosa qua ce l'hai fatta grazie 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 fantastico fantastico sei riuscito a togliere quel dolore pazzesco per riuscire a comunicare con lui carlotta carlotta è felicissima e ogni tanto ti accarezza la gotta di destra di sofia prosdocimi cristina seno ho una una signora anziana cristiana per te è una signora anziana una signora che ha un buon portamento non è tanto alta è piccolina ed è molto molto dolce è venuta a guardarti ecco quindi non ha proprio un messaggio vero e proprio lei è emozionata comunque di essere qui essere qui e riuscire a comunicare farti sapere che lei comunque di là quindi il suo messaggio è semplicemente questo graziella riboldi tu ci viene stasera a trovarti stanotte vengono a trovarti graziella tu ci invece per graziella riboldi loro hanno un messaggio visivo per te e questo messaggio visivo mi fanno sentire il profumo del mare quindi mi danno il mare come messaggio per te ora non so graziella se può essere un consiglio che può essere magari di cercare di avere delle visioni del mare per riuscire a farti rilassare un pochettino il che è anche meglio perché sanno che sei un po' agitata in questo periodo chi non lo è comunque ok e quindi ti chiedono di poter ecco vedere un attimino il mare di rilassarti con il mare poi il mare è un filo conduttore no sia per loro che per te che sono di là e quindi e quindi fanno vedere il mare patrizia volpe invece ti chiedono di poter aprire il tuo cuore di non avere paura perché è vero che se tu apri il tuo cuore si rischia di soffrire patrizia ma è vero anche dicono è vero che si deve vivere con amore se il biglietto da pagare ogni tanto è la sofferenza non c'è problema ecco però assolutamente sì apri il tuo cuore te lo dicono anche i tuoi antenati perché i tuoi antenati dalla tua famiglia patrizia volpe erano un po' chiusi ok quindi tendono molto a chiudersi quindi non vogliono che tu faccia uguale invece ho che mi è arrivata prima addirittura della diretta michele gemma ambrusino l'ho preso scritto al volo mentre mi stavo mettendo in diretta allora michela gemma ambrusino invece loro mi hanno dato un messaggio per te all'incontrario di quello di patrizia volpe ovvero è inutile parlare tanto perché tanto ti ascolta solamente chi ti vuole bene chi ti vuole bene mi fanno proprio vedere anche se anche se tu fossi muta questa persona lo capisce quindi non sprecare così tante parole così tanto fiato te lo dicono proprio per te perché dispiace ecco quando semplicemente basterebbe che tu stessi in silenzio e ascolti e guardi chi ti ascolta quando tu sei in silenzio questo si ok siete in 240 si fa un po' si paola cataneo la tua mamma il tuo papà e mia sorella non vengono mai chiedo a tutti ma veramente a tutti di là loro ripeto me lo ripeto perché forse riusciamo meglio a comunicare loro provengono da un ambiente che c'è tantissimo amore più voi avete dispiacere perché non ricevevete un messaggio più voi li pensate con dolore più voi li pensate con la sofferenza oppure faccio un esempio perché è successo anche a me no ma perché non viene come mai non viene cioè viene per tutti voi perché per me non viene ecco è una forma che purtroppo li allontana perché loro vivono in un amore puro un amore dove c'è una forma di generosità e di altruismo e di benessere enorme e riescono a comunicare solo con questa stessa frequenza lo so che è molto difficile è molto difficile però se volete è necessaria ho letto solamente veloce e non ho letto il nome ci sono i miei bimbi sì me l'ho fatto tutti e due sì sì quindi dovresti sentire a un lato di qui e un lato di là un po' di pesantezza un po' tanta alle tue spalle ok che ti danno la prova che te l'ho fatto sì sì ok hanno fatto letteralmente così non mi ricordo chi sei però però hai scritto così quindi te lo ricorderai tu chi sei ok paola tanti colori ecco tanti tanti colori e poi sento questa risata bellissima e forse anche questo suo modo di dire che c'è sta veramente tanto bene però l'eco della risata è una risata che potete sentire sicuramente anche voi marina i tuoi dell'oltre sono contentissimi di come ti stai comportando ora e sono contenti perché in mezzo a tanta tanta cattiveria tanta tanto egoismo tu non ti stai facendo intaccare da queste cose qua nemmeno dalla tua famiglia vicina e questo le rende le persone che hai nell'oltre veramente molto molto orgogliosi di te Asia Chimiento con tutti questi cuori posso dirvi che basta un solo messaggio non c'è bisogno di scriverne tanti perché non è perché io non vi vedo sono loro che mi trasmettono ne basta uno solo ve lo dico perché così magari evitate di scrivere 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 per vedere che io vi guardo vi posso vedere avete dei cuoricini bellissimi ma se loro non hanno il messaggio io non posso darvelo Silvana De Vita quell'amore di cui loro parlano è un amore che è inimmaginabile Asia Chimiento puoi evitare di darmi tutti questi cuoricini perché te lo chiedo per cortesia perché tanto non non c'è il messaggio ho provato guardare non ci sono i messaggi ecco in questo caso quindi anche se tu scrivi tante volte non io ti posso guardare ti ho dotato per forza di cose ma sono loro che mi fanno notare a chi devo mandare il messaggio quindi anche se me lo scrivete tante volte non non funziona così purtroppo magari a quest'ora dare tutti i messaggi alle mie amiche devo dire la verità invece non posso neanche farlo perché lo fanno loro e mi seguono loro e è difficile sì Claudia De Giacco è molto difficile è molto difficile Claudia De Giacco e specialmente nel tuo caso quando io ho visto anche questa persona che è una persona è sul chiaro e viene da molto lontano ed è una persona che ti ama immensamente e ti ama dalla notte dei tempi e in ogni vita vi siete rincontrati e poi per una serie di situazioni vi siete persi ed è sempre con te perennemente è sempre con te come se fosse tra virgolette lasciatemi il termine una sorta di spirito guida Gevi Chiovi ho visto questa persona di là che ha un sorriso grandissimo cioè c'è un sorriso meraviglioso ed è un sorriso perché è il suo modo di dirti che c'è ecco perché così in questa maniera tu lo riconosci subito all'istante allora Flavia D'Amico sì assolutamente sì assolutamente sì Flavia lui ti farà trovare un fiore bianco credo che sia come una sorta di orchidea ecco per darti l'idea sì mi sembra un'orchidea Lisa Danollo la tua nonna è troppo simpatica mi piace da amati è una di quelle nonne vecchio stampo no quelle che sono pane pane vino al vino poche storie ti amo ne basta ecco e l'adoro ed è vicino anche a Gianluigi questa nonna qua piace molto piace molto anche a lui vuol dire che è una persona molto forte che è una persona molto dolce che è una persona molto equilibrata è una persona anche molto molto corretta perché so che Daniel Luigi quando me li fanno passare lui fa passare persone che sono veramente si sono purificate quindi sono sono molto belle ok e quindi ti dicevo Flavia Flavia dammi così si lui almeno così mi ha fatto vedere e ti fa vedere questa specie di orchidea io non conosco i fiori scusate e questa orchidea bianca Sabrina Cofetti volevo dirti che ti stanno dicendo che ci sono e e mi fanno morire come sono simpatici stasera sono simpatici tutti stanno cercando di farvi ridere molto probabilmente penso io per il discorso della pandemia no che siamo tutti molto tristi allora io li vedo proprio che mi mandano tutti i messaggi come da ridere non so come dirvi però a quella di prima che non mi ricordo più il nome volevo dirti che loro ti letteralmente ti fanno i pizzicorini nei piedi di notte quindi tu ti svegli che ti sembrano ad avere questi crampi in realtà sono loro ok e tu ovviamente ti svegli di notte c'hai i crampi alle gambe no e quindi avere questo problema qua ti sviano dagli altri problemi che hai in realtà ovviamente non hai nulla ma sono loro che ti fanno questi scherzi ok quindi è una cosa veramente meravigliosa Elisabetta Periani tuo papà è una persona molto riservata e il messaggio che vorrebbe darti è un messaggio d'amore è un messaggio di cercare di essere un po' più equilibrata perché lui avrebbe piacere di vederti fare delle buone scelte che siano tue e che tu possa essere un po' più equilibrata e di avere paura perché non c'è niente di pauroso da affrontare nella vita assolutamente no lui ti ama molto è orgoglioso della sua bimba è una persona che ti assomiglia tantissimo e lui mi ha detto che si fa sentire da te ogni tanto con delle ventate di aria quindi quando tu senti un po' delle ventate di aria è l'abbraccio del tuo papà vai dritta per la tua strada non avere paura basta le tue scelte vanno bene a te devono andare bene a tutti così deve essere ok allora Ale Ale che ti ho visto prima Ale Ale eccola Ale Ale è difficile perché si capiscono molte cose solo adesso che non ci siete più Ale Ale infatti fatta appunto guarda me lo stanno urlando e basta depressione non ne hai motivo basta allora se avessero motivo è da capire perché loro quando sono stata in vita erano giù di morale ma avevano anche i loro motivi per essere così giù di morale non capiscono perché tu sia giù così depressa perché è vero che a tutti noi manca qualcuno però questa è la vita è vero che abbiamo la mancanza dei nostri nell'oltre ma abbiamo davanti a noi le bellezze di tutta la vita ad accogliere assolutamente quindi loro vogliono che tu cominci a vivere non vogliono che tu sopravviva inizi a vivere questo è il loro messaggio aleale brunella dardi certo che sì mandate pure i cuoricini ci mancherebbe assolutamente sì te l'ho te l'ho data aleale la parola di conforto dei tuoi adesso sono già andati a rilassarsi perché fanno fatica un po' a venire Simonetta Lambert Simonetta ciao ascolta ho sentito un profumo di colonia colonia proprio e sono mi stanno dicendo che sono molto felici di te che finalmente hai trovato questo tuo equilibrio quindi avanti così la stessa cosa per Marinella Cimarelli ok loro mi fanno sentire i loro profumi profumi proprio profumi sia da uomo che da donna i profumi proprio molto buoni un po' antichi però sì molto buoni allora Fanny la novella io sento Fanny questo praticamente c'è questo viaggio che sta facendo nell'oltre ed è un viaggio bellissimo perché sta assaporando tutto quello che può assaporare della vita e non ho capito se è perché nella vita reale non ha potuto farlo ok però nell'oltre il suo il suo messaggio è quello di farmi vedere cosa sta facendo quindi sta nel sottobosco a sentire i profumi del bosco poi si tuffa nelle onde del mare sento vedo questo paesaggio misto vedo le coste fastagliate della Cordovaglia vedo questo vento impetuoso vedo questi fari in mezzo al mare sai i fari quelli dove si infrangono le onde ecco io lo vedo mi fa vedere che è in tutti questi luoghi e se li sta godendo tutti no abbiamo di nuovo l'uccellino anche la volta scorsa c'era l'uccellino io qua sono chiuso in casa ermeticamente e poi gli uccellini di notte non cantano neanche il grillo è tutto chiuso un grillo va bene allora cerchiamo di essere tutti un po' più saggi e meno bugiardi allora sarà così può essere vedi che ci fanno ridere ok io non non sento nessuno nessun messaggio cellulare niente di niente no no niente di niente tutto azzerato direi vabbè ok Fabiola Bibbi Fabiola ti chiede un grande una grande cosa ti chiede di togliere il dolore almeno per un momento per poter comunicare direttamente con te lui era una persona molto socievole molto ma nel suo privato del suo privato era molto riservato e quindi non ha piacere perché alcuni non hanno piacere avere il mezzo di comunicazione come posso essere io poi ovviamente siamo anche in una in una chat dove siete veramente adesso siete in 270 quindi siete veramente tantissime persone quindi non si ha piacere ecco di far sapere le proprie cose quindi ti chiede di di fare provare a fare così in silenzio con la tua hai una roba addosso tipo una specie di tuta sembra color cos'è un marrone scurissimo sembra grigio quasi è un grigio marrone un colore strano ha detto ti metti lì vedo una sala un salottino ti metti seduta per terra stai in silenzio mi chiami e lasciati andare ai miei messaggi saranno messaggi tipo sembrerà come di vivere un sogno in realtà ti farà vedere alcune cose che poi queste cose qua sono i suoi messaggi ecco lui ti dice Fabio Labibi e comunicherà con te così e invece Monica Mantovani ti ti farà sognare momenti della vostra infanzia perché è stato molto molto bello eccola qua no ti ho perso non sono riuscita più a leggere volevo leggere quello di Simonetta no dai non ce l'ho fatta volevo sapere della quella è la colonia giusto perché è già andato via perché poi vengono da te io penso che il lavoro più pesante lo faccia Mirella Greco perché leggo io e faccio fatica anche volendo veramente ci sono alcune persone che devo essere sincera giusto per darvi un'idea alcune persone che sono veramente si può dire insistenti no certo perché no non siamo tutti bravi tutti perfettini no quindi alcuni di voi ovviamente nei messaggi è molto 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 insistente e continuo a scrivermi messaggio 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 pensando erroneamente malgrado l'ho già detto che mi debba cadere l'occhio su questa persona e dall'oltre gli arriva il messaggio dall'oltre esattamente l'incontrario perché più vedono l'insistenza più loro che parlano solo con amore chiudono mi chiudono proprio quindi anche volendo non non riesco a dartelo ok quindi basta un solo messaggio una volta basta esatto Katia San assolutamente sì mamma mia ma sai che io quando vado di là che vedo Katia San mamma mia tu io io non li riconosco perché sono dei fasci di luce e sono tutti completamente non terreni cioè tutte le persone che tu hai nell'oltre come tutti anche i tuoi antenati Katia quando vado di là io li riconosco però parlano è una lingua che io non faccio fatica a comprendere perché non appartengono non sono mai stati cioè sono veramente stellari come lo sei tu d'altronde no e quindi è una cosa veramente meravigliosa è una roba incredibile vabbè mi hanno detto che hai da fare uno come ti dice Gaetano sì perché se noi siamo qua bisogna dire che anche grazie a Gaetano Gaetano vivo che è l'amministratore di Bridges offline e devi fare questo cambio tac devi fare un cambio tac un cambio direzionale proprio ho detto qualcosa di Graziella ma non Graziella Asta e tuttavia ho di nuovo anche te Graziella Asta che mi hanno bloccato Graziella Asta sì assolutamente sono tante persone vicine a te Graziella e ti stanno in questo momento ti stanno come coccolando perché tu è un momento che hai bisogno di essere coccolata ora a te non piace molto le coccole soffocanti non dico quello è una coccola morbida una sorta come di coperta una protezione che ti danno e quindi ti stanno avvolgendo di luce nell'attesa che passi questo periodo e che tu sei protetta voi continuate a sentire gli uccellini ma io mi posso garantire che ho le suonerie tutte abbassate ovviamente e sono chiusa in questa cameretta una cameretta vicina ermeticamente chiusa quindi non non si sa come mai arrivano questi uccellini è incredibile la tua piccola Eleonora Natati è bellissima ma veramente bellissima è come già Luigi una gnocca proprio una gnocca ma lo sentite voi dai vostri telefoni questi grilli non capisco vabbè comunque andiamo oltre perché loro vogliono dare i messaggi quindi comunque ah ecco Nicoletta si il babbo usava la colonia vedi allora benissimo allora grazie Simonetta hai avuto la tua il tuo messaggine appunto e vi dicevo che ovviamente quando io sono stata molto poco bene molto poco poco bene è italiano mi sa di no meno male che non c'è Anna Maria che fa la maestra o c'è Anna Maria sì però di là c'è suo figlio quindi mi sa che mi sgrinano e dicevamo che quando sono stata poco bene mi hanno fatto capire che quando avrei sentito gli uccellini avrei avuto comunque una rinascita quindi di stare tranquilla e quindi io associo il rumore del cinguettio ha una rinascita quindi tutte le persone che in questo momento sentono un cinguettio significa che in quel momento voi avete una rinascita attenzione ho detto rinascita non a caso ok quindi solo per le persone che hanno sentito il cinguettio o il grillo quel che l'è la rinascita la rinascita comporta dei cambiamenti una trasformazione quindi per rinascere e per stare meglio dovete togliervi ovviamente tante cose no quindi ci si deve togliere l'egoismo ci si deve togliere l'ipocrisia ci si deve togliere tutte quelle cose che noi abbiamo ce l'abbiamo tutti perché io vedo la gente egoista ma se la vedo vuol dire che anch'io un po' lo sono altrimenti non la riconoscerei no e quindi c'è bisogno per queste persone che hanno sentito di purificarsi un attimino e di dare un po' più di amore Roberta Cogan il colore che mi trasmetto no è l'arancione un arancione anche proprio l'aranciata dire la verità mi ha fatto venire sete ma chi è mamma mia chi è sto qua che mi fa venire sto vedo oh che sete oddio scusate ma l'arancione mi fa venire in mente l'aranciata di mia sete mi fa vedere l'arancione quindi non so che cosa vuol dire questo è il suo messaggio ok ah che sete mi fa venire quello con l'arancione switch esatto Giovanna switch lo switch deve fare lo switch la Katia Sun si lo switch voi non avete idea dentro dentro di lei Katia Sun com'è cioè com'è la sua il suo spirito di là è uguale forse che è magrissima io devo aver preso la costellazione dei cicci la ciderbola Patrizia Focca Bianca Bellino a proposito Patrizia Focca Bianca vedo un ragazzino per te di là ed è un ragazzino che viene fra l'altro accompagnato da Gianluigi che lo tiene per mano è un ragazzino che anche lui vuole partecipare no perché si è sentito cioè proprio chiamato in causa in questi giorni e quindi il suo messaggio è eccomi qua ci sono e anche io contribuisco nel mio piccolo ad aiutare il grillo parlante di Pinocchio davvero ma poi è vero diciamo bugia credo ogni giorno no faccio un esempio quando ci dicono come stai tutti quanti adesso in questo periodo diciamo bene è già una grandissima bugia no perché siamo tutti ansiosi nervosi impauriti no quindi sarebbe troppo lunga a dirlo quindi si Gianluigi mi dà un grande aiuto a me è un faro davvero ok 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 vittoria gortan buonasera vittoria vedete vittoria gortan ha scritto semplicemente buonasera è lì che sta semplicemente sicuramente guardando magari anche la prima volta che vede chissà ha un messaggio per te dall'oltre da una persona che è un signore che ti assomiglia tantissimo e che ti dà tantissimi bacioni questo è il suo messaggio è vestito abbastanza elegantemente cioè no aspetta cosa dico è vestito come un la facciamo un lavoro manuale ecco quindi ovviamente però è vestito bene come il vestito della domenica ecco per meglio dire è vestito con il vestito della domenica quindi appare a me in questa forma io tendo a essere così allegra perché di là come dicevo quando loro mi parlano provengono con un grandissimo amore e quindi non si può anche queste vibrazioni che loro hanno sono talmente poi grazie a Gianluigi che filtra ovviamente mi fa passare persone che hanno già raggiunto una un'elevata spiritualità di amore e quindi quando loro arrivano portano con sé questo carico di beatitudine di allegria cantano ballano quindi in un certo qual senso loro ballano sì si ballano eh già c'è una Maria quindi avrà sicuramente sentito lo strafalcione che ho detto in italiano ecco abbiamo gli ultimi messaggi mi fanno scorrere dove mi fanno andare antonio latina antonio latina antonio come sono felici della tua donna o come sono felici mi fanno proprio così letteralmente sì l'arancio mi fanno madonna quest'arancio ha fatto una roba mai visto un colore così esploso davanti ed è il messaggio che ha dato quindi io l'ho dato come come brava patti brava bravissima bravissima Daniele bello bellissimo sì già ok bene ho l'ultimo messaggio che viene data non vale però Gianluigi Roberta Garegnani hai fatto un complimento a Gianluigi e quindi a Gianluigi che mi gira il volto verso di te non vale però e volevo dirvelo wow mi fa vedere i colori dell'arcobaleno per te Roberta Garegnani e questo significa che ci sono anche il ponte dell'arcobaleno e come tu sai benissimo il ponte dell'arcobaleno ci sono anche tanti animali pelosi nel ponte dell'arcobaleno e quindi mi fa vedere tutto questo volevo dirti che mi danno tutti quanti anche i pelosi questo messaggio per te ed è molto semplice ma bellissimo ci sono delle cose che bisogna accettare di noi stessi no che possono essere belle brutte insomma però bisogna accettare e tu bisogna accettare che sei una persona libera tu sei libera libera come il vento nessuno può rinchiuderti perché se ti rinchiude tu non ce la fai e quindi hai bisogno di vivere libera fai in modo di rimanere sempre libera che le persone possono essere compagni vicino a te ma non chiuderti ok comunque non vale Gianluigi non vale cioè capito adesso vedrai stiamo a vedere tutti i complimenti per Gianluigi una luce alla sinistra quella è la sinistra questa qua è mia mamma la luce alla sinistra è la mia mamma ok Ascari Ascari Monica sì la parola buona è questa coraggio te le dicono loro a te coraggio è una donna che te lo dice una donna anziana ha detto coraggio ma coraggio nel senso che devi andare avanti bene cioè fatti coraggio perché non non devi abbatterti perché non hai nulla da poterti abbattere ok ok Margherita lancia sì è vero adesso siete tantissimi quindi probabilmente all'inizio non non mi avete giustamente sentito quindi quest'ultimo minuto lo dedico a ridire questa cosa bellissima per darvi l'idea di come loro riescono a comunicare com'è avviene così molto semplicemente potete farlo anche voi direttamente secondo me perché ognuno di noi è una una luce divina no tutti noi ce l'abbiamo voi avete avuto un momento della vostra vita felice sicuramente sì quando è nato vostro figlio quando avete avuto il primo bacio oppure il primo abbraccio avete avuto un momento di felicità pazzesca tutti noi li abbiamo avuto sarà durato un secondo ma l'avete avuto ecco moltiplicate quella sensazione al mille per mille e avrete solamente un lembo di quello che loro hanno nell'oltre quando parliamo di là bisogna avere tanto amore se loro portano amore e noi portiamo tristezza non riusciamo a comunicare per questo motivo quindi portatevi tanto amore dentro di voi quando dovete parlare con loro e loro vi ascolteranno e voi riuscirete a comprenderli sono le 21.30 dobbiamo salutarci io vi ringrazio siete stati veramente tantissimi ringraziamo Gianluigi ringraziamo anche il Grillo 5TO parlante che ha dato un messaggio a tutti ringraziamo Gaetano che ha permesso questa nostra bellissima diretta noi poi ci vedremo con Anna Maria Squeri il 3 di aprile che faremo questa bellissima diretta insieme per in onore in punto di quello che sarà poi le festività pasquali io vi ringrazio tutti e vi auguro un buon proseguimento grazie grazie di cuore grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.